Interrare la ferrovia nel tratto che va da Roseto a Silvi significherebbe aprire nuove prospettive per i territori che non solo avrebbero assicurato il transito del treno del futuro, ma potrebbero acquisire una serie di aree di risulta preziose per la progettazione dello sviluppo organico sotto il profilo dell'ambiente, della salute pubblica e di una nuova moderna configurazione urbanistica delle città. Sono state queste le parole pronunciate dal presidente della provincia Camillo D'Angelo che si è fatto promotore dell'iniziativa, che sta trovando terreno fertile tra i comuni coinvolti nel progetto. Certo il discorso della viabilità e della messa in sicurezza di una prospettiva futura è qualcosa di importante, ricordo che circa un anno e mezzo fa in un incontro in regione a Pescala con tutti i sindaci della costa abruzzese, pavimentavamo e manifestavamo alla presidente della regione di lavorare perché ci fosse un arretramento, abbiamo purtroppo appreso negli ultimi mesi che Roseto sarebbe esclusa come Pineto e come Silvi da questa attività importante che guarda al futuro. Ovviamente siamo favorevoli, le strategie devono essere però unitarie tra i comuni, non può partire da un discorso partitico o di alcuni gruppi che si mettono avanti per essere un giorno sui giornali, qui bisogna invece lavorare in sinergia. Un progetto che come è facile immaginare avrebbe bisogno di cospicui fondi per la sua realizzazione, per questo motivo il sindaco di Roseto Mario Dugnes ribadisce l'importanza di un tavolo istituzionale. Ho già detto, comunicato per le vie brevi al presidente della provincia, lo rifaccio qui pubblicamente, di creare un tavolo istituzionale tra sindaci, tra enti che vogliono lavorare per spingere la regione e chi per loro a far sì che questi investimenti siano reali. Qui si parla di miliardi, di cifre importantissime e quindi ovviamente la sinergia è fondamentale. Credo che sia un discorso legato alla sicurezza, alla vivibilità, alla sostenibilità ma anche allo sviluppo di un territorio. Ovviamente questo è un discorso che va preso nelle sedi giuste e quindi ovviamente non credo che sia un discorso, come dicevo prima, da prime pagine di giornali o semplicemente da lanci di alcuni partiti politici.